buongiorno a tutti amichi amici questa è la vostra puntata di elisir buongiorno ben ritrovati volevo fare i complimenti a michele per la puntualità perché dalla scozia è dalla scozia sono arrivato in tempo in tempo vengo direttamente dalla caccia alla volpe come si vede sta prendendomi in giro per la mia tenuta e va bene è un apprezzamento elegantissima peraltro tenuta autunnale dai si scherza si scherza si andiamo sulla notizia dai allora scambiati questi fervorini passiamo a un nuovo argomento che io introdurrò citando l'uomo patiens o patiens l'uomo sapiens e l'uomo civile finalmente questi uomini a un certo punto i nostri antenati hanno deciso di capire come funzionasse il loro il loro corpo che è una macchina meravigliosa e il primo intoppo lo testimoniano ippocrate galeno è stato il mal di pancia o meglio i disturbi legati alla digestione che qualche volta diventa cattiva vediamo se il nostro professore il nostro ospite carlo fabbri professore direttore della gastroenterologia ed endoscopia digestiva all'ospedale di forlì cesena può aiutarci a capire perché professore intanto buongiorno come ci è stato insegnato e quindi la salutiamo la digestione a volte diventa cattiva io direi definirei più difficile che cos'è che non funziona come e da dove cominciano in tutti gli organi coinvolti in questa delicatissima vicenda anatomo fisiologica cioè naturale cos'è che non funziona è talmente vero quello che diceva che ipocrate chiamava l'addome la tomba del medico proprio perché gli organi coinvolti sono tantissimi rispetto alla cattiva digestione l'organo protagonista è lo stomaco accoglie il cibo lo accomoda perché ha le pareti elastiche quindi lo mescola lo fa venire a contatto con i succhi digestivi e poi lo invia verso il duodeno e le prime parti dell'intestino attraverso un principio che si chiama svuotamento quando tutto questo non è perfettamente sincronizzato in armonia ben orchestrato ecco che abbiamo la cattiva digestione ho capito ma come lo capisco che con i sintomi quali sono certamente ci sono dei sintomi classici che sono fondamentalmente la sensazione di ripienezza addirittura il rigurgito la sassietà precoce fino ad arrivare addirittura all'alitosi alla nausea e in alcuni casi al bruciore al vomito la sonnolenza l'ha messa la sonnolenza è molto interessante perché ci fa capire che esiste un asse neuro digestivo mente corpo che sono molto consorziati tra di loro e quindi ci possono essere dei sintomi anche extra digestivi aggiungerei ognuno poi è libero a casa amici amici se volete fatelo di aggiungere a questi sintomi qualche esperienza personale sul piano sintomatico da poterci che ci possa aiutare ad approfondire in un prossimo incontro ne ne dico subito una una digestione difficile può coinvolgere anche il diaframma che a sua volta può coinvolgere il funzionamento cardiaco certamente il diaframma è un tetto meraviglioso che separa il torace dove guarda caso c'è aria esattamente da tutto l'addome quindi quando non funziona bene il tetto che separa lo stomaco e gli organi della digestione la digestione può essere complessa le mamme qualche volta dicono fallo il rottino santo non lo dicono al marito lo dicono al pargoletto perché prima di dare la linea a domenica riduce semplicemente la pressione nello stomaco e quindi è liberato vuol dire che ha finito di digerire nello stomaco esattamente questo è un segnale certamente domenico sì domanda di damiano michele ho 63 anni e soffro da diversi anni di digestioni lente e difficoltose e se non digerisco dopo circa tre ore dal pasto inizia un insopportabile mal di testa frontale che cosa posso fare ci chiede questo è un caso molto tipico esistono due tipi di cattiva digestione una post brandiale in cui abbiamo la sassietà precoce e una molto ritardata rispetto al pasto come quella di questo signore che è caratterizzata soprattutto dal bruciore e peraltro è presente da molti anni immagino che il signore abbia già consultato medici abbia fatto alcuni esami di accertamento e il fatto di nuovo che abbia anche cefalea fa capire l'importanza dell'aria emotiva e del sistema neuro digestivo proprio perché è la parte elettrica che decide come noi riusciamo a fare muovere l'intestino a come se cerne e renzini e quindi a garantire il funzionamento della stanza che è lo stomaco esattamente come una stanza di casa nostra se non va la luce siamo nei guai quando vi sedete a tavola lo dico anche per me pensate a quello che sta dicendo il dottore un attimo dedichiamolo all'organizzatore di questa macchina meravigliosa a padre eterno ringraziandolo perciò forse per quello ci si segna i credenti si segnano prima di assumere un pasto allo prego d'accordo un'abitudine molto molto premonitrice del fatto che stiamo facendo un gesto importante per la nostra decisivo per la nostra vita quando comincia a non funzionare più questa questa attività uno decide di interrogarsi poi finalmente su consiglio magari di una persona più avveduta si reca dal medico che gli dice e il medico come fa a capire intanto per fare una diagnosi di dispepsia ovvero di cattiva digestione il fattore tempo è importante generalmente i sintomi perdurano da più di tre mesi è normale nella nostra vita avere dei sintomi occasionali di cattiva digestione ma perché si chiami proprio cattiva digestione ovvero dispepsia il criterio temporale importante devono perdurare da almeno tre mesi ed essere associati ai sintomi che dicevamo poco prima bruciore ripienezza dolore dottore professore c'è una compromissione con altre patologie delle quali noi ignoravamo l'esistenza non avevamo mai appurato il compito più importante del medico è stabilire se la cattiva digestione è legata a delle cause come la gastrite l'ulcera dello stomaco l'ulcera del duodeno addirittura a volte le neoplasie certo l'obesità sono dei fatti predisponenti ma anche malattie fuori dall'intestino ad esempio la depressione la depressione certamente perché la sfera emotiva insiste tantissimo nella percezione che noi abbiamo con il rapporto con il cibo e quindi dobbiamo sempre interrogare intervistare anche la qualità emotiva dei nostri pazienti poi benedetta si occuperà di cibo e come vedo già allestito un magnifico banco pittoresco di un cibo allestito con cibo sano e nutriente ascoltiamo intanto però francesca sì michele grazie vi riporto un articolo che ho letto la digestione può essere collegata e può essere quindi condizionata anche da altri fattori come il cambio di stagione e bisognerebbe fare molta attenzione anche agli sbalti di temperatura e alle correnti d'aria il professore ce lo conferma assolutamente confermo questo i cambi di stagione sono meravigliosamente belli perché la natura attraverso il fatto che nella stagionalità ci offre cibi diversi ci fa capire quanto sia importante adattare la digestione e gli alimenti a quello che ci offre la natura sotto gli occhi sotto casa gli sbalzi di temperatura sono più legati alla tecnologia all'arrivo dell'aria condizionata la termoregolazione è importante vuole energia passare da un ambiente a 35 gradi a 20 prevede consumo di energia di sangue di ossigeno ma il sangue l'ossigeno serve anche per digerire ora tutte le volte nella nostra vita se facciamo due o tre cose in una volta è facile che non ci vengano tutte e tre perfettamente bene professor fabbri da tempo si parla di esseri viventi che abitano coabitano con nel nostro con altri esseri viventi che sono microbi batteri virus funghi muffe e altre cose ancora non decisamente individuate vivono si chiama diciamo universo interiore nostro c'è un termine preciso che voi in microbioma il microbiota ecco coi microbiota del microbiota facevano parte anche gli elicobacter pilori no quelli che hanno causa che causavano e causano ancora le ulcere gastrodenali no nel senso che l'elicobacter pilori è un'infezione vera e propria che noi acquisiamo nell'infanzia il microbiota è proprio un vero e proprio organo fa parte di noi come il fegato come il cuore il cervello ma questo del micro dell'elicobacter pilori è una conquista del mondo vostro del mondo medico relativamente recente molto dopo ipocrate 1984 warren e marsh al premio nobel a proposito dei premio nobel siamo felici che sia stato dato agli scienziati virologi che hanno scoperto l'epatite il virus dell'epatite assolutamente professore le cure le terapie si aggiornano in continuazione le ulti l'ultimo grido l'ultimo grido intanto ci sono dei farmaci che agiscono sull'asse mente cervello delle piccole dosi di regolatori del tono dell'umore regolano anche i movimenti dell'intestino e quindi si sono dimostrati altamente benefici da questo punto di vista è ovvio che se prevale il bruciore possiamo utilizzare anche dei farmaci che riducono la secrezione dell'acido ma dobbiamo intervenire sui movimenti dell'intestino grazie professore è stato molto chiaro e la ringrazio e la convinco la prego di ammirare questa magnifica inquadratura con della frutta che l'alimento primario certo prego benedetta carissima le parleremo domani grazie per averci seguito la linea val tg3 complimenti ma lo dico io no 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 complimenti per aver scelto elisir